Mario, allora tu sei uno degli svitati, quindi cosa ci facciamo qui? Sarà una bella storia oggi, perché andremo a provare dei vini a confronto vite e sughero. Ok, quindi cosa mi hai portato? Un sauvignon? Io ti ho portato un sauvignon nostro, che facciamo in Val Dicebre. Tu sai che ho Mauro che mi aspetta, quindi io adesso lo prendo e vado ad assaggiarlo con lui. Portalo e poi mi saprai dire però, eh? Assolutamente. Fammi un colpo di intellettro. Assolutamente. Ciao! Direttamente dagli svitati, Mario Poyer, il nostro marione preferito, ci ha dato questo sauvignon tappo a vite. Sauvignon tappo a vite, allora adesso non vogliamo perderci nella solita descrizione del sauvignon, che è un classico, se ci seguite conoscete benissimo. E vorrei dire una cosa, scusa, chiunque abbia un gatto, va bene, chiunque abbia un gatto, la prima cosa che sente veramente è questo profumo di pipì di gatto. Adesso, detta così, sembra brutta, però ovviamente la parte buona della pipì di gatto, insomma. La parte buona della pipì di gatto. Certo, allora detto in maniera un po' più elegante, possiamo dire che salvia, foglia di pomodoro, comunque è un odore intenso, ma ha un profumo delicato. Sì, sì, sì. È comunque equilibrato e poi in bocca viene fuori la qualità che comunque c'è nei vini di Poyer. I vini di Poyer, io devo ancora veramente assaggiare qualcosa che ho detto, vabbè Mario, potevi far di meglio. No, 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 questa cosa deve ancora succedere, credo anche che non succederà mai. Allora il vino è fresco, il vino è fragrante, decisamente fragrante, è intenso, è equilibrato, è decisamente armonioso. Anche in bocca, un'intensità veramente piacevole ragazzi, è veramente un vino che ti accarezza. La nota che a noi piace definire piacevolezza è elevatissima. È un vino che facciamo difficoltà a considerare come tappo a vite, perché i vini trentini, i vini di Mario, sono sempre comunque freschi e fragranti. Sì, sì, sì. Qua stiamo parlando di 2021, quindi non si sente ancora quel vantaggio che può avere il tappo a vite. Ma abbiamo fatto, guardatevi i video precedenti, abbiamo fatto delle degustazioni comparative in cui la differenza viene fuori. E quindi questo progetto nei vini specialmente aromatici, nei vini freschi, nei vini fragranti, è un progetto da seguire, da accogliere. Tra l'altro lui fa una pratica, che è il lavaggio delle uve, che però vi faccio raccontare direttamente da lui. Sentiamo, Marione. Una delle caratteristiche dei tuoi vini è che tu lavi le uve. Spiegami questa cosa che mi fa impazzire. Allora, questo è un percorso che abbiamo iniziato già una ventina di anni fa e dal 2007 tutte le uve dell'azienda sono lavate. Tutte? Ma per quale motivo? Tutte, se l'uva è integra. L'importante è che l'uva sia non rotta. Magari un'uva attaccata da insetti, la drosofila o quant'altro, non è possibile lavarla perché usirebbe del mosto e entrerebbe dell'acqua nell'acino. Per cui uva è integra e di solito quasi tutte le uve dell'annata sono perfette, precise, a parte attacchi appunto di drosofila. E laviamo per quale motivo? Più che altro per mettere in condizioni ideali di lavoro i lieviti. Ok. Noi trattiamo in campagna contro peronospora, oidi o botrytis con dei prodotti antifungo. Il lievito cos'è? È un fungo. Per cui pretendiamo dal lievito che faccia un gran bel lavoro con la presenza magari di rame, zolfo, alluminio, altro problema, metalli pesanti, che servono appunto per tamponare le malattie in campagna e poi pretendiamo il grande bel lavoro del lievito. Per cui via questi inquinanti il lievito soddisfattissimo lavorerà in maniera egregia. Mario ne sa sempre una più del diavolo. Detto questo, come possiamo al meglio degustare questo vino? Il Sauvignon è un vino che si presta anche in aperitivo o come dico io, mentre stai preparando da mangiare, il classico calice che hai in mano mentre sei ai fornelli. Sicuramente un vino che va bene con dei primi piatti a base di verdure, a me quando è stagione vengono in mente uova e asparagi. E non so, ad esempio con i caparossui, termine tecnico veneziano? Assolutamente sì, quelle, le cozze anche, se si può sbizzarrire negli abbinamenti, il Sauvignon si presta a tantissimo, purché abbia intensità di gusto e se sa d'amare meglio. Allora io ringrazio il mio personaggio preferito dei fumetti che è Mario Poyer. Non so se voi avete notato, ma Mario assomiglia veramente a Obelix. Se avete occasione veramente di passare da lì, passate perché è un'esperienza esaltante andare in azienda sua. Mario, e a tutti gli svitati d'Italia. Sì. E questo lo chiudo e lo metto in frigo.